Nuova provocazione della Corea del Nord che nel weekend ha effettuato un nuovo test missilistico, un razzo che ha viaggiato per circa 500 km prima di cadere nel mare del Giappone e abberta sfida alla regione niponica ed anche al neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Intollerabile provocazione, ha commentato il Premier Haze, mentre il Ticon americano ha detto quello che tutti capiscono che gli Stati Uniti sono al 100% al bianco del Giappone un grande alleato. Il Ministero degli Esteri italiano ha preso con preoccupazione la notizia del lancio delle missile petuato dalla Corea del Nord, che è tornata a violare apertamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e si impone lo sviluppo e l'interruzione dell'arsenale missilistico e nucleare. Intanto, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno chiesto la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per prendere le opportune contromisure. Mimmo Siena, Speciale News.